Il barcone. Scusate, sono emozionata. Allora, ripeto, perché in realtà non la volevo adattare, adattavo con testa, però non mi è uscita. Allora, ok. L'aspettava un ragazzo che aveva il volto talmente sereno che mai avrei immaginato avesse alle spalle il lungo viaggio dell'esperanza. Si chiamava Nuri. Il suo nome conteneva la parola luce. Mi sono detto, qualcosa ci entrerà. Ho sempre percepito una connessione tra il nome che lo vuole.